Nome. Mark Alan Smith. Numero vittime. 4. Modus operandi. Stupro, strangolamento, accoltellamento. Mark Alan Smith è nato il 27 giugno 1949 nell'Illinois, Stati Uniti. I suoi genitori divorziarono quando aveva tre anni. Il bambino aveva grossi scoppi di rabbia violenta, motivo per il quale la madre dovette più volte farli cambiare scuola elementare. Ma poco cambiava. Il piccolo Smith, durante la ricreazione, aspettò che una sua compagna di classe si isolasse dagli altri per poi aggredirla, tendendo di strangolarla. Sempre durante il periodo delle scuole elementari, Smith, in preda alla collera, infilzò per ben venti volte, con una penna, un bambino di sei anni, il quale riuscì a sopravvivere. La situazione era allarmante. Fu, quindi, mandato da uno psichiatra. Da qui non si hanno più informazioni, fino al 1966, quando fu arruolato nell'esercito e mandato in guerra in Vietnam e poi nella Germania occidentale. È il 1967 e Smith fu espulso per gli Stati Uniti per aver aggredito quattro colleghi afroamericani, tendendo di strangolarli. Gli impulsi violenti che lo perseguitavano fin da bambino non erano cessati. Era ormai all'apice della pazzia. 3 dicembre 1969. Obie Feiyash, 20 anni, è stata rapita e, una volta assicuratosi che nessuno era nelle vicinanze, procedette allo stupro e all'omicidio pugnalandola ripetutamente. 27 gennaio 1970. Jean Bianchi, casalinga di 27 anni e madre di due bambini, fu vista per l'ultima volta in una lavanderia. La sera aveva telefonato a suo marito per informarlo che sarebbe tornata a casa presto, ma Jean non tornò più. Fu trovata giorni dopo in un torrente ghiacciato. Il mostro l'ha aggredita e stuprata nella lavanderia. Dopo aver compiuto la violenza sessuale, iniziò ad insultarla e minacciarla e che doveva salire in macchina con lui. All'interno del veicolo Smith iniziò a pugnalarla ripetutamente fino ad ucciderla, per poi scaricare il cadavere nel torrente. 27 febbraio 1970. Janice Boyar, 22 anni, collega di Smith in un laboratorio chimico, quella sera si trovava appunto al lavoro, da sola con l'assassino. Smith ci provò, voleva avere un rapporto sessuale con lei a tutti i costi. Janice, resistendo e respingendo l'uomo, ha fatto scattare in lui una di quelle esplosioni violente di rabbia. L'ha insultata e picchiata terribilmente. Successivamente l'ha strangolata fino a quando non perse i sensi. Portò la ragazza svenuta in una stanza, l'appoggiò ad un tavolo e le tolse i vestiti. Iniziò lo stupro. Poi usò i pantaloni della ragazza per strangolarla fino ad ucciderla. Fu trovata il giorno dopo la sua scomparsa, in seguito alla denuncia del suo ragazzo. 27 maggio 1970. Ginlinge Enfelter, 17 anni, studentessa liceale, lasciò casa per andare da un'amica a studiare dato che si sarebbe diplomata solo dopo una settimana. Ma il suo destino era già segnato da un mostro che l'aveva presa di mira da tempo. Era ormai tarda sera e i genitori, non vedendola arrivare, denunciarono la scomparsa. L'amara sorpresa la ebbero il giorno seguente quando una giovane coppia trovarono il suo corpo nudo senza vita. Era stata stuprata, soffocata a morte e le era stata infilata una bottiglia di birra nel retto. Tutti questi omicidi avevano scioccato la popolazione di quell'area. La loro atrocità e il fatto che uno psicopatico si aggirava in cerca di ragazze non destò solo paura. Un gran numero di cittadini si adoperò, in aiuto delle forze dell'ordine, per trovare il serial killer. Una di queste persone era proprio lui. Mark Smith. Il sadico era euforico nel vedere la paura e la rabbia in quelle persone. Le indagini senza sosta portarono, però, proprio lui ad essere il principale sospettato. Arrestato per delle delucidazioni, confessò con estrema freddezza tutti gli omicidi e rimase impassibile di fronte alle foto delle sue vittime. L'una frase che disse al riguardo fu. Tutti devono morire, prima o poi. È il 1971. Mark Smith, sospettato di oltre otto omicidi, fu condannato a 500 anni di carcere per i quattro omicidi a lui imputati.